È un paese che lo stanno distruggendo giorno per giorno e speriamo di cambiare, così lo risolveremo un po'. Ascoltiamo un giovane, cosa si aspetta dalla nuova amministrazione che si insedierà a Maierà? Rilangiare Maierà. Oggi è una giornata importante per Maierà, bisogna scegliere la nuova amministrazione, cosa si aspetta dal nuovo esecutivo? Io aspetto che rimanca quello che attualmente è il sindaco, quindi spero che si riconfermi il sindaco anche per questa tornata. La continuazione è quella che ha già programmato, lista numero due. Cosa si aspetta dalla nuova amministrazione comunale di Bonifatti? Sicuramente che risolva alcuni problemi territoriali che abbiamo, il cui obiettivo sia sempre dedito al bene comune, questo mi aspetto. Io ho già deciso chi votare, lo voto Roberto Geragge, lo dico apertamente anche davanti alla telecamera che non ho nulla da nascondere, e lo voto per un cambiamento perché l'ultima volta per me non è stato bene questo comune. Bisogna avere un pochettino più di onestà e intelligenza, giusto un pochettino così, nel resto qui è tutto tranquillo. Sostenitore di quale lista e per quale motivo? Lista numero due, Mollo. Per quale motivo sostiene la lista dell'ex sindaco Antonio Mollo, di cosa ha bisogno Bonifatti? Ma di quelle scome c'era già stato, quindi lo facciamo continuare per proseguire i progetti che stava facendo.